Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany, come sempre oggi avevo pensato a un video un po' strano, cioè nel senso fuori un po' da quelli che propongo di solito primo perché si parla di distopia spesso quando, insomma, nel mio bollirone di letture io mi ritrovo soprattutto a leggere libri per ragazzi young adult, a volte saghe fantasy per adulti però, secondo me, quando si tratta di fantastico, nel senso più ampio che questo termine possa ovviamente significare bisogna includere anche la distopia, che è una delle mie cose preferite e quindi oggi ho pensato di consigliarvi 5 libri distopici, che però sono molto molto brevi e riuscite a leggerli in una giornata, ovviamente in one sitting, che è quello che si... in una seduta sola perché non hanno bisogno di giorni e giorni e giorni, sono molto brevi ci sono cose molto nuove, anche autori molto emergenti, come vedrete altre invece che vengono da un'epoca molto più lontana e sono grandi classici e altre che invece sono dei classici molto sconosciuti e quindi io sono qui per questo e partiamo dal primo libro, che è Individutopia di Josh Weldon che io non conoscevo assolutamente, però me lo sono ritrovata tra i suggerimenti di Amazon il titolo e la copertina mi facevano un po' sorridere e quindi ho letto la trama che mi sembrava super figa e quindi l'ho preso e devo dire meno male, perché è stata una lettura tra l'altro molto veloce e breve perché il libro è circa 150 pagine ma soprattutto perché è stata molto divertente ma di che cosa parla Individutopia? l'anno è il 2084 e una citazione molto famosa di Margaret Thatcher è diventata realtà la società non esiste davvero infatti in questo mondo nessuno parla con il prossimo nessuno parla con nessun altro le persone non collaborano ma competono solamente tutto ciò che apparteneva allo Stato ora è diventato privato è stato privatizzato le garanzie che ci dava lo Stato sociale e i servizi che competevano allo Stato non esistono più, sono stati svenduti e sono diventati quindi un lusso i salari sono drasticamente diminuiti le persone sono diventate schiave proprio di quel pochissimo che guadagnano e i disoccupati che crescono ovviamente in numero giorno per giorno sono sempre di più marginalizzati dalla società anzi, dallo Stato perché non ha più modo di aiutarli quindi non sono capaci di provvedere a se stessi e questo ovviamente ha avuto conseguenze tragiche perché le persone ora non sono più in grado di provvedere a se stesse e la popolazione in generale è caduta in una fossa in un oblio di depressione, ansia e ci troviamo in un mondo dove il suicidio è diventato praticamente la norma ma tranquilli che c'è speranza e la speranza ricade sulla nostra protagonista René Amblanca infatti lei farà una cosa che è fuori da tutti gli schemi e infatti cercando di riempire il buco che la società ha creato attorno a lei come a tutti gli altri individui farà qualcosa di impensabile andrà in cerca di compagnia e per lei è un atto radicale una sfida alla società stessa allora io l'ho trovato una storia super divertente davvero molto ironica perché spesso noi proprio assistiamo a degli interventi dell'autore che commenta che fa battute che si rivolge direttamente al lettore e che proietta ovviamente nel futuro uno dei problemi che ora stanno diventando sempre più incisivi nella nostra società uno di quelli che man mano dilagherà e si allargerà ovvero l'isolamento dell'individuo la mancanza di contatti sociali la diffidenza verso il prossimo verso ciò che non si conosce che porta ovviamente alla mancanza di sostegno reciproco e a una società individualista e assolutamente egoista è una storia che vi consiglio assolutamente perché intanto è molto giocosa ed è assolutamente stimolante perché ci fa ragionare molto su quella che è la nostra società di adesso cioè la situazione odierna è quella di crescente isolamento degli individui che sempre di più diventano diffidenti verso ciò che ci sta attorno abbiamo paura anche quando è solo una percezione il pericolo e la paura e internet e i social media da un lato ci hanno offerto tantissimo ma dall'altro chiaramente stanno incidendo sempre di più verso un isolamento degli individui che stanno spostando gran parte dell'attività sociale online e quindi ovviamente secondo me è un buonissimo spunto divertente veloce e facile da leggere per ragionare su un qualcosa e su un paradosso che sta avvenendo anche nella nostra società e che chiaramente prende spunto da questo con tanti rimandi tante citazioni fa veramente super ridere è solo in inglese purtroppo ho cercato di trovarvi solo cose in italiano ma non ce l'ho fatta quindi questo è in inglese il livello è tra il basilare e l'intermedio quindi l'ho riuscita a leggere tranquillamente ha un linguaggio molto colloquiale quindi se ad esempio seguite tantissime serie tv inglese o americane questo lo leggete proprio facilmente arrivo su un altro titolo di un autore che ripete in qualche modo un'operazione già fatta per un altro romanzo molto più famoso ovvero Cecità che è José Saramago e in questo caso vi parlo di un titolo molto provocatorio che si chiama Le intermittenze della morte infatti in questo racconto che è un racconto molto breve anche in questo caso lo leggete molto velocemente se non che lo stile di Saramago per alcuni è un grande mistero per altri invece è un grande amore e in questo caso noi ci troviamo in un luogo non ben identificato in un punto non ben identificato ma allo scoccare della mezzanotte di un 31 dicembre non ben identificato si insaura l'eternità ovvero la morte si è rotta le scatole e ha detto che non lavorerà più per un po' e infatti nessuno muore più quindi uno dei grandi sogni dell'umanità probabilmente si sta avverando e ovviamente questo avvenimento viene recepito subito con gioia come una festa come un qualcosa di estremamente meraviglioso ma piano piano la mancanza della morte inizia a farsi sentire e inizia a mettere in subbuglio tutta la società ogni strato della società inizia a ragionare sulle conseguenze su come gestire tutta questa difficoltà dal governo alle compagnie di assicurazione dalle agenzie di pompe funebri alle case di riposo alla chiesa cioè chiunque inizia a interrogarsi su come cosa succederà ora senza morte infatti non c'è più resurrezione quindi diciamo che la chiesa non ha più senso di esistere ma dopo sette mesi di estenuanti comunicazioni tra un lato e l'altro la morte interrompe il proprio sciopero e niente io l'ho trovato super divertente brillante in una satira sociale molto tagliente soprattutto dove vengono presi di mira la chiesa in primis ma anche chiaramente le istituzioni mettendo in luce quanto non siano in grado di reagire di rispondere prontamente alle problematiche della nostra società ed è assolutamente originale cioè l'idea che la morte vada in vacanza perché non ne può più perché è in sciopero e mette in subbuglio l'intero paese e chiaramente crea scompiglio non solo quando decide di andare in vacanza ma quando anche decide di tornare ed è anche estremamente diverso perché si vede proprio come la morte incida soprattutto chiaramente sulle due istituzioni che da sempre hanno preso in mano la gestione di queste cose ovvero la chiesa e lo stato ma dall'altro lato vediamo proprio come ogni granello che compone la nostra società va in crisi c'è chi si deve reinventare dei lavori come appunto le pompe funebri ma c'è chi non sa come gestire alcune pratiche c'è chi deve assoldare delle persone per riuscire a lavorare e la morte diventa proprio la più umana di tutte le persone che noi incontriamo all'interno del libro e infatti è un racconto tempestato di situazioni paradossali estremamente divertenti ed ironiche e molto pungenti che però magari alle volte ci fanno venire in mente questioni alle quali noi abbiamo pensato oppure ci fa pensare proprio se mai succedessero cose del genere quali soluzioni siamo tutti fregati per me anche in questo caso la parte distopica serve soprattutto ad essere trasportata con grande ironia in questo tipo di racconto e la parte distopica serve soprattutto per creare un mondo molto assurdo molto paradossale e che tramite l'ironia cerca un po' di interpretare quella che è la nostra società quelli che sono i problemi che noi potremmo vivere e quindi niente è come non amarlo e secondo me è questo proprio come in cecità dove a un certo punto tutte le persone diventano cieche in questo caso le persone non muoiono più l'espediente è lo stesso però racconto molto breve che vi consiglio assolutamente se volete approcciarvi alla distopia anche se in questo caso forse è qualcosa di un po' marginale e però mi è piaciuto tantissimo e poi visto che si sta parlando di distopia e in generale secondo me uno dei padri ovviamente del sci-fi eccetera un po' che essere Asimov vi consiglio ovviamente una delle sue raccolte più famose che è Io, Robot non guardate il film il libro infatti è una raccolta di racconti che si sviluppa su un filo molto comune infatti introduce le tre leggi della robotica quelle norme che regolano il comportamento delle macchine pensanti create dall'uomo e che da quel momento in cui è stato pubblicato sono diventato le basi fondamentali su cui si è sviluppata tutta la letteratura che avesse che fare con la robotica e proprio tenendo a mente proprio queste tre leggi fondamentali seguiamo una serie di racconti che vedono parlare Susan Calvin che è la psicologa dei robot infatti Io, Robot fondamentalmente indaga sui parallelismi tra ciò che definisce l'umanità e l'esistenza umana e dall'altra parte ciò che viene definito una vita senziente e il potere che può avere o esercitare l'umanità su di essi e quali sono le problematiche e le questioni morali legate ad esso e incontriamo davvero situazioni molto paradossali perché chiaramente c'è un capovolgimento di questi robot che spesso si sentono esattamente come gli uomini che li hanno creati proprio perché li hanno creati come intelligenze artificiali esseri senzienti in grado di ragionare e compiere determinate cose e le storie hanno tutti dei fili conduttori un linguaggio molto curato molto preciso un umorismo molto leggero e tutte sono contraddistinte da una certa tensione da una certa suspense ci sono sempre tante idee tante prospettive che ovviamente ti portano a ragionare su questioni che sono di natura etica e morale però sviluppate da dei robot da ciò che è la voce dei robot e dal momento che la psicologia dei robot è molto simile alla psicologia degli esseri umani questo è il grande paradosso molti problemi che vengono affrontati dalla psicologa sono effettivamente problemi della natura umana o problemi dell'umanità stessa spesso infatti i robot affrontano proprio una crisi un qualcosa che li destabilizza che li manda in confusione un po' come il robot che nella guida galattica aveva una crisi esistenziale una sorta di robot scettico che a un certo punto della sua crisi addirittura arriverà a non credere più a ciò che gli viene detto dai suoi creatori a ciò che è stato imposto dai suoi creatori ma cercherà di sviluppare una consapevolezza e delle conclusioni proprie è veramente super interessante perché fa sempre questo parallelismo tra umanità e robot come se fossero due forze distinte una creata dall'uomo e l'altra che fondamentalmente ha gli stessi problemi dell'uomo ok mi si era scaricato la batteria spero sia venuto tutto comunque questo ovviamente lo trovate in italiano quindi lo potete leggere tranquillamente se non avete mai letto Asimov preparatevi perché bisogna entrare nel mondo sci-fi il prossimo racconto che vi suggerisco che è molto breve si chiama The Yellow Wallpaper di Charlotte Perkins Gilman e è una storia molto molto particolare a tratti ricorda un pochino l'incubo di Hill House o avevamo sempre vissuto nel castello comunque ha degli elementi secondo me in comune con Shirley Jackson ma in questo caso parliamo di una cosa molto diversa infatti noi leggiamo un racconto che è scritto come se fosse un diario segreto di una persona di una donna ritenuta nervosa che è stata confinata in una mansarda dal marito e dal medico e seguiamo proprio attraverso le sue parole il declino mentale che subisce la protagonista la protagonista di questa storia infatti è stata portata nella casa di campagna di famiglia per riprendersi da una malattia che non ha nome non viene definita dopo aver appena partorito un bambino quindi presumibilmente si sta parlando di depressione post partum e un crollo mentale legato a questo sia il marito che il fratello della vittima sono entrambi i dottori entrambi infatti pensano che portarla in questa situazione un po' isolata un po' tranquilla eccetera possa giovare alla sua assolute e numerose volte noi seguiamo nel corso della narrazione come il marito chiami la moglie ma anche il fratello quindi il dottore chiami la moglie con appellativi molto maschilisti spesso la chiama il mio agnellino e quando viene portata in campagna viene rinchiusa in questa mansarda che ha la particolare caratteristica di essere tappezzata di carta da parati gialla che è molto rovinata e quindi si sta sgretolando man mano seguiamo come la nostra protagonista rinchiusa qua dentro e impariamo che la donna invece che migliorare grazie proprio all'isolamento invece declina man mano e anzi la sua salute mentale si fa sempre più precaria e il tema della parete gialla il tema dello spazio il tema del colore per lei diventano un motivo quasi ossessivo man mano sappiamo che probabilmente il migliore modo per farla riprendere sarebbe stato tenerla all'aria aperta farle respirare aria fresca invece viene rinchiusa in un posto isolato portando via via la nostra protagonista a scomparire sia dal radar che dalle conoscenze ma soprattutto a scomparire da se stessa questa storia è impostata proprio per farci pensare che all'inizio della storia la nostra protagonista sia attraversando un momento di debolezza ma come se stesse perfettamente bene e proprio questo marito che appare come un uomo sinistro un uomo malvagio la rinchiude dentro questo spazio che definisce proprio l'esistenza della nostra protagonista e lei proprio all'interno di questo spazio diventa sempre più ossessionata dalle pareti da questo giallo questa carta da parati che si sgretola e quindi man mano abbiamo un appiglio tattile a farci capire quasi che la sua follia diventa sempre più concreta perché è proprio confinata nello spazio che dovrebbe quasi limitarla ma in realtà questo spazio le si stringe talmente addosso che sembra quasi amplificare tutto ciò che le sta passando per la testa infatti la stanza ma soprattutto le pareti che proprio delimitano la stanza diventano man mano l'estensione del suo universo tanto da farci capire che la carta da parati è molto più viva di lei e che addirittura tutta la sua esistenza viene limitata da questo spazio e che la sua follia però si espande sempre di più mentre lo spazio si restringe volevo citarvelo perché The Yellow Wallpaper è stato scritto nel 1892 e viene considerato uno di quei racconti che ha agli albori proprio del femminismo moderno che da un lato critica chiaramente la società patriarcale l'istituzione del matrimonio e fa vedere come il matrimonio diventi quasi per la donna un passaggio di proprietà dalla famiglia che in questo caso è rappresentato dal fratello al marito e il marito che la opprime la tratta proprio come una proprietà un oggetto la Gilman infatti rappresenta anche una voce molto precoce molto anzitempo di un discorso sulla salute mentale in questo caso noi seguiamo una donna che soffre di depressione postpartum che è qualcosa che è entrato nel nostro quotidiano e nella nostra società non perché prima non esistesse ma perché si è ne è iniziato a parlare molto tardi solo di recente perché prima tutto ciò che aveva a che fare con la salute mentale era tabù il mondo si divideva in pazzi o insani non c'erano persone che convivevano con la propria condizione mentale e quindi niente io ve lo suggerisco questo assolutamente prima perché è molto breve e si legge molto in fretta lo stile è intermedio in questo caso io lo conosco solo in inglese ma magari faccio ricerche e scopro che c'è in italiano apparirà la grafica nel caso ma diciamo è veramente molto molto avanti per l'epoca e tratta due tematiche che sono assolutamente interessanti in questo caso la distopia è data dalla dimensione del luogo in cui si crea la narrazione perché noi siamo dentro una stanza tutto avviene dentro una stanza abbiamo delle pareti che ci limitano in tutto e le pareti gialle diventano la psicologia addirittura della nostra protagonista ma arriviamo all'ultimo che se avete seguito un po' di miei video dove vi do dei consigli random tipo quello del perturbante è un mio grande amore ovvero Ray Bradbury e in questo caso io non posso che consigliarvi Cronache Marziane come ultimo titolo di oggi parto citandolo perché dice We Earth Men have a talent for ruining big beautiful things ovvero noi uomini della terra abbiamo proprio un talento nel rovinare le cose grandi e bellissime e cioè si riassumerebbe tutto e in questo caso The Martian Chronicles ovvero le cronache marziane c'è anche in italiano ma la mia versione italiana è a Roma racconta tramite una serie proprio di racconti diversi tentativi che l'umanità ha fatto per colonizzare Marte e infatti seguiamo proprio l'evoluzione anche della colonizzazione del pianeta rosso i primi uomini che ci hanno provato erano molto pochi e molti infatti sono morti sono hanno dovuto soccombere a una malattia che veniva chiamata la grande solitudine e quei pochi sopravvissuti non trovarono proprio un comitato di benvenuti infatti i nuovi marziani piano piano iniziano anche a perdere il senno però ci sono altri razzi che arrivano dalla terra altre navicelle che trasportano nuovi colonizzatori portando una serie diversa invece di cose dalla terra ci sono spesso allucinazioni che portano soprattutto anche delle emozioni in questo caso sono ovviamente in situazioni paradossali o comunque molto amplificate e infatti gli uomini portano con sé i pregiudizi i loro desideri e le loro fantasie sembrano già contaminate sembrano già comunque macchiate e questi hanno addirittura contaminato i nativi di Marte insomma questa raccolta di racconti secondo me è molto interessante per vedere come l'umanità anche quando si sposta anche in situazioni così gigantesche riesce comunque a creare scompiglio riesce comunque a distruggere le cose belle riesce a portare il peggio con sé invece che le cose migliori e questa è una raccolta di racconti di fantascienza fondamentalmente molto umoristica Bradbury è uno dei migliori nell'usare l'ironia per raccontare ciò che avviene nelle sue vicende che sono sempre chiaramente ambientate in una situazione distopica e ogni piccolo racconto porta con sé una tragedia che avviene all'interno della narrazione ci mostra come l'uomo abbia ancora moltissimo da imparare dai propri errori e quanto spesso riesca a replicare dei meccanismi negativi e Bradbury riesce sempre a descrivere queste ambientazioni comunque con un po' di nostalgia con un po' di tristezza misto però alle situazioni paradossali che chiaramente scatenano un certo tipo di umorismo e che in qualche modo riesce quasi a purificare ciò che sta rappresentando e crea per il lettore un punto dal quale ripartire forse su ragionare per cambiare migliorare e ripulire anche forse la propria coscienza e non risulta mai troppo moralista che è una cosa che mi piace moltissimo dello stile di Bradbury e il motivo per il quale io ho letto tantissimo di lui perché trovo che riesca comunque a bilanciare molto bene sia la parte ironica sia rappresentare certe situazioni in maniera anche brutale però senza mai risultare uno spiegone senza mai dover risultare troppo moralista o maestrino da insegnarti le cose e anzi per il lettore diventa un'esperienza un po' strana perché ci si trova sempre destabilizzati ma si sa che tramite quello che si legge di Bradbury si impara sempre tanto anche se lui non è lì per insegnartelo ma solo per mostrartelo e questa è una cosa che me lo fa apprezzare sempre tanto e niente direi che oggi siamo arrivati alla fine perché non credo che la batteria durerà più di tanto io spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa interessare sono tutti racconti molto brevi che riuscite a leggere in una giornata oppure una serie di racconti da centellinarvi in qualche giorno tanto si fa abbastanza in fretta e io come sempre spero di avervi tenuto compagnia come sempre giù nell'info box trovate tutti i link di affiliazione se volete acquistare tramite i miei link ad Amazon e anche Ko-fi se volete offrirmi un caffè per mandare avanti il canale e non mancano anche i miei link social ora vi ho detto tutto come sempre io vi ringrazio e direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao